Il Governo, in piena collaborazione con la Commissione Parlamentare Cultura, sta lavorando per appunto creare un coordinamento che si ritiene necessario tra intanto una legge che individui e inquadri tutti i beni identificabili a monumento nazionale con dei criteri generali e inoltre introducendo un coordinamento col Codice dei beni culturali che si ritiene necessario per quanto riguarda tutte quelle norme che riguardano il vincolo che poi va posto su questi monumenti nazionali. Quindi il parere è favorevole all'ordine del giorno numero due. Grazie, signor Sottosegretario. A questo punto se non ci sono obiezioni sulle riformulazioni e nessuno chiede di porli ai voti, i due ordini del giorno si intendono accolti. Passiamo dunque al voto finale, poiché nel corso della seduta potranno avere luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono a questo momento i termini di preavviso di 5 e 20 minuti previsti dall'articolo 49,5 del Regolamento. A facoltà di intervenire per dichiarazione di voto, l'onorevole Mottola. Signor Presidente, onorevoli colleghi, da poco più di una settimana ricorrerà il 79esimo anniversario della morte di Antonio Gramsci, uno degli intellettuali più rilevanti nella storia italiana e internazionale del XX secolo. Filosofo linguista, critico letterario, storico giornalista, politico, Gramsci, nel corso della sua più breve esistenza, riuscì a vestire i panni di ognuna di queste figure, riuscì a farlo non in maniera approssimativa, ma premeggiando per capacità, profondità di pensiero, accuratezza d'analisi, capacità divulgativa, teorizzatore della figura dell'interiorità organico, di cui forse fu il primo esempio, fu uomo di parte, critico della democrazia, sostenitore dei Soviet, fondatore del Partito Comunico.